Musica Quattro dipendenti del consultorio dell'ASP di Vittoria sono stati sospesi dal servizio del GIP di Ragusa a conclusione di indagini della Guardia di Finanza su presunti casi di assenteismo. I reati ipotizzati dalla procura sono di truffa ai danni di ente pubblico e di fraudolenta attestazione della presenza in servizio. Poteva finire in tragedia un tentativo di furto a Paternò un trentenne dell'Hondura se volato dal balcone di casa durante un tentativo di furto, arrestato un diciannovenne di origini marocchine. A Catania i carabinieri hanno denunciato un 45enne slovacco senza fissa dimora per danneggiamento di auto in sosta e dei muri della cattedrale. L'economia della Sicilia è questo il titolo del report della Banca d'Italia in relazione agli indici economico-finanziari della Sicilia nel 2019 e nel primo semestre del 2020 quindi anche a seguito del periodo di lockdown analizzati comuni, imprese, lavoro e famiglie. Per quattro giorni consecutivi, da mercoledì a sabato scorsi, una serie di incendi ha devastato estese aree delle vigne di Adrano e Biancavilla. Anche sabato in azione tre velivoli per quasi cinque ore. L'archeoclub Ibla Maior di Paternò ha avviato uno studio sul castello Normanno. La ricerca ha l'obiettivo di approfondire l'analisi dell'architettura dal punto di vista storico e cosmologico. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che questa sera apriamo parlando di Corona Canera. Quattro dipendenti del consultorio dell'Asp di Vittoria sono stati sospesi dal servizio, dal GIP di Ragusa per un periodo compreso tra uno e tre mesi a conclusione di indagini della Guardia di Finanza su presunti casi di assenteismo. I reati ipotizzati dalla Procura sono truffa ai danni di ente pubblico e fraudolenta attestazione della presenza. In servizio i dettagli nel primo dei nostri servizi. Il GIP di Ragusa, conclusione di un'attività di indagine condotta dalla Guardia di Finanza in merito a presunti casi di assenteismo, ha sospeso dal servizio quattro dipendenti del consultorio dell'Asp di Vittoria per un periodo compreso tra uno e tre mesi. I reati ipotizzati dalla Procura sarebbero truffa ai danni di ente pubblico e fraudolenta attestazione della presenza in servizio. Come già detto, le indagini sono state portate avanti dalla Guardia di Finanza nel periodo che va da gennaio a novembre 2019 e grazie alla collaborazione dell'Asp 7. Di fondamentale importanza anche le intercettazioni, video e i pedinamenti secondo quanto ricostruito alcuni dei dipendenti nonostante non fossero presenti sul posto di lavoro avrebbero fatto timbrare il proprio cartellino ad altri colleghi. In molti casi, così come ha sostenuto la Guardia di Finanza inoltre gli indagati si sarebbero allontanati in modo abituale dal luogo di lavoro per girovagare per le vie cittadine, recarsi in palestra, fare la spesa o dedicarsi ad altre esigenze personali. E tra di loro ci sarebbe stato anche chi, così come ricostruito sempre dalle fiamme gialle simulando di aver dimenticato il proprio badge a casa avrebbe omesso di timbrare il servizio per poi presentare una falsa dichiarazione sostitutiva compilata a mano e sottoscritta dal proprio dirigente. Ad emergere dunque, secondo le fiamme gialle, sarebbe stato un sistema ben rodato e collaudato di fraudolenta, reciproca, solidarietà e mutua collaborazione fra dirigenti, medici e paramedici. Il Tribunale del Riesame di Catania ha annullato quattro capi dei sei di imputazione contestati a Giuseppe Blancato, 69 anni, arrestato lo scorso 22 maggio dai carabinieri nell'ambito dell'operazione Esculapio, complessivamente indagate 21 persone tra assistiti e medici su presunte truffe e falsi certificati di invalidità. Il medico è stato posto agli arresti domiciliari per due capi di imputazione, il ricorso era stato presentato dai suoi legali. Poteva finire in tragedia un tentativo di furto a Paternò, un trentenne dell'Honduras, è volato dal balcone di casa durante un tentativo di furto, arrestato un 19enne di origini marocchine. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno arrestato un 19enne di origini marocchine, Yassin Ouabi, accusato di tentato omicidio e furto in abitazione. I fatti all'alba di ieri, quando diversi cittadini hanno telefonato al 112 per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. In pieno centro cittadino, a poche decine di metri da piazza Regina Elena, c'era in corso una lite tra due persone, conclusasi con il volo dal balcone di uno dei due. Ricostruendo i fatti, tutto è cominciato poco prima delle 4 del mattino. Tra due stranieri, il 19enne ed un trentenne dell'Honduras in Italia come rifugiato politico, c'era in corso una lite. Come ha raccontato un cittadino paternese che ha fatto scattare l'allarme alle forze dell'ordine, il trentenne era stato aggredito sulla strada dal 19enne, ma la vittima era riuscita a liberarsi e scappare verso la sua abitazione. Proprio mentre il cittadino al telefono raccontava l'accaduto ai carabinieri, ha sentito altri rumori e urla che provenivano da casa del trentenne. Rimasto in linea con i militari dell'arma, l'uomo ha anche sentito le urla della vittima che chiedeva aiuto. Da qui, pochi istanti dopo, il trentenne è volato giù dal balcone della sua abitazione, al primo piano di via San Giuseppe. Nello stesso momento sul posto sono arrivati i carabinieri con la centrale operativa delle forze dell'ordine di Paternò rimasta collegata all'uomo che ha lanciato l'allarme. I militari dell'arma sono riusciti a fermare l'aggressore e poi hanno fatto scattare i soccorsi con l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118. E' a questo punto che il trentenne e i carabinieri arrivati per soccorrerlo ha chiesto notizie di una macchina fotografica digitale caduta sul selciato vicino a lui, per la quale il malvivente aveva tentato di ucciderlo. Poi l'uomo ha perso i sensi. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove medici gli hanno riscontrato politraumi alla colonna vertebrale guaribili in 30 giorni. arrestato con l'accusa di tentato omicidio è stato portato nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Continuiamo con la cronaca nera. A Catania i carabinieri hanno denunciato un 45enne slovacco senza fissa dimora per danneggiamento di auto in sosta e dei muri della cattedrale. Se ne andava a spasso per Catania di incidere simboli fallici sui parabrezzi dell'autovettura in sosta con l'accusa di danneggiamento, i carabinieri della stazione di Piazza Dante hanno denunciato uno slovacco di 45 anni senza fissa dimora, Erik Orak, di 45 anni. I fantomatici raid dello slovacco in pieno centro nel capoluogo Etneo, l'uomo utilizzava un frammento di pietra lavica per le sue incisioni poco piacevoli. Molte le denunce arrivate ai carabinieri, tra le quali anche quelle del parroco della cattedrale di Catania. I militari si sono avvalsi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, riuscendo a scorgere il soggetto e estrarre un fotogramma grazie al quale si distingueva bene in vita. L'esecuzione di numerosi servizi nell'arco notturno, nonché l'utilizzo di una metodologia di indagine tradizionale, una sorta di porta a porta che ha registrato la piena collaborazione dei cittadini residenti nelle zone del centro storico, ha premiato i carabinieri che sono riusciti a individuarlo e fermarlo in piena notte, mentre si preparava l'ennesimo tourre, come dimostrato dal ritrovamento e sequestro di un frammento di pietra lavica nascosto all'interno dello zaino che portava in spalla, utilizzato come detto dall'uomo per compiere le sue incisioni. L'economia della Sicilia, questo è il titolo del report della Banca d'Italia in relazione agli indici economico-finanziari della Sicilia nel 2019 e nel primo semestre del 2020, quindi anche a seguito del periodo di lockdown analizzati comuni, imprese, lavoro e famiglie. L'economia della Sicilia, questo è il titolo del report della Banca d'Italia pubblicato oggi in relazione agli indici economico-finanziari della Sicilia nel 2019 e nel primo semestre del 2020. A causa dell'emergenza sanitaria mondiale legata al Covid-19, dopo il lockdown il 25% delle imprese siciliane rischierebbe adesso di rimanere senza liquidità. In questo 2020 in corso dunque anche i comuni siciliani dovranno fare i conti con questa situazione di estrema difficoltà. Tante, troppe le ripercussioni negative causate dalla pandemia. Ripercussioni che hanno messo in ginocchio il mercato del lavoro riflettendosi di conseguenza anche sui redditi delle famiglie, per non parlare ancora del forte impatto avuto sulle imprese a causa della chiusura delle attività. Così come emerso dagli studi in Sicilia, il 22,3% dei siciliani vivrebbe in famiglie in cui non vi sarebbe un reddito da lavoro. Tra le spese correnti sarebbero cresciuti gli acquisti di beni e servizi. A fronte di queste spese i comuni avrebbero ricevuto trasferimenti erariali e regionali. Ci sarebbe stato anche un impatto negativo sul fronte delle entrate che in larga parte avrebbero risentito del blocco delle attività economiche. All'appello mancherebbero l'imposta di soggiorno, l'imposta sulla pubblicità, l'IMU sulle strutture turistiche, la Tosa, la Tari per gli esercizi commerciali sospesi. In un contesto di incertezza circa l'evoluzione dell'emergenza sanitaria, è scritto nel report della Banca d'Italia, le imprese che stimano una riduzione della spesa per investimenti per il 2020 prevalgono nettamente su quelle che ne prefigurano un aumento. Tra i principali comparti di specializzazione regionale, quello turistico, che negli ultimi anni ha sostenuto la dinamica dei servizi, è uno dei più esposti alla crisi anche in ragione della dipendenza dalla domanda estera e dei tempi necessari a ripristinare la fiducia dei viaggiatori che amplificheranno le difficoltà delle imprese per la stagione estiva 2020. Nel complesso, secondo il report di Banca d'Italia, la situazione finanziaria degli enti territoriali in Sicilia si connoterebbe per la presenza di elevati disavanzi dovuti prevalentemente agli accantonamenti per le anticipazioni ricevute in passato dallo Stato e alla presenza di elevati crediti di dubbia e difficile esazione. Un terzo della popolazione regionale risiederebbe in comune in dissesto o che abbiano adottato piani di riequilibrio finanziario. Profonda la debolezza delle famiglie, la quota di famiglie in povertà assoluta, infatti, sarebbe al 12%, maggiore rispetto alla media italiana del 7% e rischierebbe di aumentare ulteriormente a seguito degli impatti dell'emergenza sanitaria. E adesso ci fermiamo per qualche minuto, la nostra informazione tornerà tra poco. Ener Green Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, offriamo le soluzioni adatte a qualsiasi esigenza. Realizziamo impianti civili ed industriali, garantiamo ogni tipo di installazione, il nostro servizio è completo e chiave in mano. I nostri impianti garantiscono gli incentivi dal 45 al 51%. Tu non dovrai pensare a nulla. Dove c'è luce ed energia, c'è amore e la vita continua. Affidati a personale esperto, scegli Ener Green Power. In questo periodo da Ener Green Power, grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 6 kW, 6.000 euro più IVA al 10%. Impianto 3 kW più 5 kWh di accumulo, sempre euro 6.000 più IVA al 10%. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Questo è il momento giusto per pensare di tagliare il costo della tua bolletta. Approfitta degli incentivi statali, contattaci e troveremo la soluzione adatta a te. Ener Green Power. Contra da tre fontane. Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it Ed eccoci rientrati in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. Oggi avrebbe compiuto 69 anni Salvatore Consolo, ex consigliere comunale paternese a capo dell'agenzia assicurativa reale mutua di Paternò, morto dopo una lunga malattia. A Palazzo Alessi tra il 2002 e il 2007, nel corso della prima legislatura del sindaco Pippo Failla, ha scelto successivamente di non ricandidarsi, rimanendo comunque interessato alla politica, seguendola anche in maniera diretta con il fratello Lucio, consigliere comunale tra il 2007 e il 2017 durante le legislature dei sindaci Pippo Failla e Mauro Mangano e poi scegliendo di sostenere la candidatura alle ultime amministrative del giornalista Anthony Di Stefano. La redazione di Chuck News esprime vicinanza alla famiglia Consolo. Per quattro giorni consecutivi, da mercoledì a sabato scorsi, una serie di incendi ha devastato estese aree delle vigne di Adrano e Biancavilla, anche sabato in azione tre velivoli per quasi cinque ore. Quella penata scorsa è stata una settimana di fuoco per le vigne di Adrano. Una serie di incendi a partire da mercoledì scorso ha quasi cambiato la morfologia di alcune zone di diverse contrade. Sono cambiati i colori, come hanno mostrato anche le nostre immagini dall'alto, che hanno dato il segno della devastazione, di come il fuoco ha divorato la vegetazione del posto e ha ingenerito tanti fondi agricoli. Siamo in pieno palco dell'Etna, nelle contrade D'Urso, Santuzza, Marina e altre ancora. A queste dobbiamo aggiungere quelle di sabato, indirizzate da un altro spaventoso rogo, soprattutto quello alla Feliciusa, in territorio di Adrano. Nelle immagini il Canadair, che per tutto il pomeriggio di sabato è stato impegnato in una lunga serie di lanci di acqua, così come hanno fatto anche i due elicotteri della forestale. Una operazione di spegnimento che ha messo in campo un grande spiegamento di forze per quasi cinque ore, con tre velivoli impegnati a fare la spola fra i bacini d'acqua e i focolai, da sottolineare anche l'intervento da terra che ha visto impegnati anche in zone impervie i vigili del fuoco, gli uomini del corpo forestale e quelli della squadra indigentio, dell'azienda forestale. Quattro giorni consecutivi di spaventosi roghi che hanno devastato il territorio è messo in pericolo non solo i soccorritori, ma anche le villette delle vigne e i tanti villeggianti che in questa settimana sono già sul posto. I diversi punti fuoco segnalati nelle distinte aree delle vigne fra Adrano e Biancavilla fanno pensare a ingenti di origine dolosa, quindi a balordi in azione a fare danni all'ambiente, ma anche alle persone, danni al territorio che sono incalcolabili, grazie a gente senza scrupoli che ingendia la propria terra e la propria coscienza. Ed in chiusura parliamo di cultura. L'archeoclub Iblamajor di Paternò ha avviato uno studio sul Castello Normanno. La ricerca ha l'obiettivo di approfondire l'analisi dell'architettura dal punto di vista storico e cosmologico. Architetto Finocchiaro, ieri questo studio è cominciato per il Castello Normanno di Paternò. Di cosa si tratta? Stiamo cominciando un percorso di ricerca. Ieri era la giornata preliminare per studiare il rapporto tra l'architettura storica e l'orientamento di questi oggetti architettonici, per studiare proprio l'esigenza che l'uomo nell'antichità aveva di orientarsi rispetto al solo rispetto al paesaggio. Molti edifici storici sono stati pensati proprio in questo senso, orientati per enfatizzare questo rapporto tra l'uomo e il senso del sacro. Il Castello di Paternò è uno di quegli oggetti che contiene queste caratteristiche e noi le stiamo studiando. In particolare ieri abbiamo analizzato la giornata del sostizio d'estate e quindi l'alba e il tramonto di questa giornata e il rapporto tra le ombre e le luci portate dal sole dentro la stanza delle grandi bifore. Questo ci ha dato la possibilità di verificare alcuni passaggi e di orientare meglio la ricerca che ci incoraggia a continuare proprio nell'ottica di una sperimentazione multidisciplinare. È uno studio che avete appena iniziato, dovrebbe protrarsi per un anno circa. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo prima di tutto è individuare queste connessioni simboliche ma anche queste connessioni tra il sole e l'architettura. Ovviamente è la possibilità di aumentare il quadro delle conoscenze storiche di una città, di un territorio. Sul piano pratico diciamo che queste sono poi notizie e informazioni che possono diventare oggetto di marketing turistico, di dispositivi proprio per creare anche attrattività da parte dei turisti. Questo è un compito che magari toccherà chi si occupa specificatamente di questo. Il nostro compito è quello di studiare, di ricercare, di comprendere meglio questi fenomeni. Sul piano anche della ricerca storica tutte queste informazioni ci permettono di capire meglio la storia e l'evoluzione di questa città e quindi della sua forma. Voi avete iniziato proprio il 21 giugno e proprio il 21 giugno del prossimo anno saranno 800 anni che Federico II arrivò a Paternò. Diciamo che questo è stato proprio uno dei nostri punti di partenza. Nel 1221, nel 1223 proprio per il sostizio d'estate Federico II viene a Paternò. Cosa viene a fare? Sicuramente ci sono documenti che attestano la sua venuta qui anche in funzione dell'ordine templare, però la coincidenza di queste date, giusto entrambe nel sostizio d'estate e la sua vocazione agli studi esoterici e cosmologici è stato il punto di partenza di questa intuizione, chiamiamola così. Quindi credo che anche approfondire da questo punto di vista può essere interessante. Questo era l'ultimo dei nostri servizi. Come sempre grazie per aver scelto la nostra informazione. A tutti voi, una buona serata.